buongiorno sono sempre io a marchese di montragone e do una notizia le feste di natale non ci sono a montragone mi trasferisco a napoli ho comprato una scinta sanità una zona bella di napoli particolare adesso mi preparo per il cenone di natale e faccio vedere le mie tradizioni allora cominciamo un panno lucafone poi ci sono anzalati di rinforza e per natale va bene stanno i suoi amici voglio come sono buono stanno i babbà in napoli eppure ci sono ci stanno i noci sto pesce i palli natale i baccalà ci sono tante tradizioni e questa volta le mie ferie passero a napoli dove asce la sanità anche giorgio è vero giorgio sempre con me anche lui è contento di stare a napoli ciao alla prossima bacio